Meglio ristrutturare i vecchi infissi in legno o sostituirli? Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi voglio rispondere a questa domanda. Prima di tutto bisogna vedere lo stato degli infissi in legno per i quali vorremmo approntare una ristrutturazione totale. Ovvero, sono infissi per i quali vale la pena? Sono messi molto molto bene? O sono infissi che sono molto malandati e magari hanno installato un vetro singolo? Ecco, in quel caso già ti dico che sconsiglio assolutamente la ristrutturazione. Se invece sono infissi messi bene, eleganti, dei begli infissi, magari ha già un vetro doppio, va la pena pensare di sostituire il vetro perché i vetri doppi, quelli fatti negli anni 80 e anni 90, hanno prestazioni molto molto scarse, però se ha già un vetro doppio il telaio e le cerniere sono già stati progettati per sopportare quel peso, mentre se ho un infisso a vetro singolo e gli vado a caricare il peso di un vetro doppio, rischio che col tempo, neanche troppo troppo, posso andare a creare dei problemi alla stabilità dell'infisso, può essere anche pericoloso. Poi bisogna vedere come è messo il legno. Se il legno è accettabile, si può pensare di rivernacciarlo, carteggiarlo e rivernacciarlo, però questa qui è un'operazione che richiede solitamente 200, 300, 400 euro ad infisso, quindi a meno che uno non sia amante del file di te, non se lo faccia da sola, da solo non è un'operazione estremamente conveniente. In ultimo, bisogna vedere se l'infisso è dotato di guarnizioni e se è dotato di guarnizioni bisogna sostituirle. Se invece non è dotato di guarnizioni, è difficile riuscire a creare lo spazio per farle lavorare in modo corretto e un infisso senza guarnizioni, ai giorni d'oggi, ha una prevenibilità all'aria troppo spinta, quindi vuol dire che anche se avrò un infisso che è legno che è molto isolante, anche se ho un vetro doppio di nuova generazione, lo spiffero che mi passerà tra te l'aria d'anta sarà talmente elevato che mi vanificerà tutti gli sforzi fatti per fare un minimo di risparmio energetico. Quindi, in quel caso, io sconsiglio la ristrutturazione e consiglio di sostituire gli infissi con degli altri infissi in legno piuttosto che legno alluminio, PVC o alluminio, quello che preferisci. Cosa importante è che l'infisso sia messo bene, cosa importante è che abbia già delle guarnizioni, quindi siano sostituibili, e che abbia già un doppio vetro e quindi anche quello sostituibile con un vetro di nuova generazione, perché un vetro di vecchia generazione disperde 3 Watt di energia ogni metro di vetro. Nuova generazione, un solo Watt, tre volte tanto. Quindi, a volte, sento dire dai clienti ma io c'è già un vetro doppio, sì, ma c'è un vetro doppio che non vale nulla, cioè vale tre volte di meno quello che si può fare oggi e non è conveniente tenerlo, perché un vetro di nuova generazione si ripaga nel giro di pochissimi anni. Però l'infisso deve essere atto a contenerlo, deve poterlo sostenere, deve avere delle guarnizioni che non vi facciano fuoriuscire il caldo dalle stesse. Se ti serve consulenza per i tuoi non infissi, perché hai visto che non ti conviene ristrutturarli, puoi utilizzare il servizio che ho ideato di consulenza con il sistema Bisacchi, vai su blog www.blogbisacchi.it e richiedi un'ora di consulenza. Ti aiuterò nella scelta dei tuoi non infissi. Ciao e al prossimo video!